Allora, barzellette battute e freddure giorno 4 dicembre Allora, c'è una signora di 80 anni che va dal medico, no? E gli dice, senta dottore, io avrei bisogno di pillole anticoncezionali Il dottore rimane basito e gli dice, scusi signora Robello, ma lei ha più di 80 anni Che cosa se ne fa delle pillole anticoncezionali? E la vecchietta risponde, eh, mi servono a dormire meglio Ma, eh, scusi, dice il dottore, ma come fa a dormire meglio con le pillole anticoncezionali? E la vecchietta gli risponde, semplice, le metto nella coca cola di mia nipote prima di andare a dormire Speciale, sta barzelletta Ciao ragazzi